va bene ragazzi buonasera a tutti da uno stanchissimo strike non per tranquilli non per la partita perché ho l'occhio anche un po ballerino stasera giornate veramente toste 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 che forse non sono neanche finite io sto aspettando un messaggio che potrebbe portarmi in ospedale a fare i tamponi quindi sto veramente sperando e aspettando che tutto vada bene ma stasera io credo e sono dato che tutto quello che poteva andare male sta andando male quindi ho tanta paura comunque detto ciò detto ciò mentre qui in chat continuano a parlare di quel capitolo bruttissimo che sarà il capitolo 1000 parliamo di questa partita allora niente ci sono partite che vanno iniziano male finiscono peggio quindi una partita veramente stregatissima per la juventus che secondo me ha due grandi colpevoli il primo in assoluto è andrea pirlo nel senso che come è intuibile come diciamo da qualunque persona che vuole commentare questa juventus è ovvio che il verdetto è arrivato tra l'altro ad hoc proprio poche ore prima della partita quindi complimenti anche poi alla gestione no attenzione tiro da fuori della fiorentina blocca scese siamo all'89 e 30 ma ho già deciso di partire col video commento comunque dicevo è intuibile che il verdetto è stato accusato dai giocatori ovviamente uno dice attenzione una grande squadra può tranquillamente accusarlo in positivo ah sì ci toglie di tre punti ce ne andiamo a riprendere subito volete fermarci così adesso vi puniamo sul campo perché sul campo che si vince a parte il fatto che poi non è che la juve abbiano dato abbiano annullato una vittoria o altro semplicemente hanno dato hanno detto che si rigioca una partita tutto qui e la juve ama vincere sul campo quindi in realtà è un verdetto che magari non te l'aspettare infatti l'abito non concede recupero avremo una clamorosa sconfitta in casa della juventus buon per prendelli comunque quindi ripeto comunque hai una rabbia perché magari non accetti il verdetto per tante storie per tante cose tutto quello che vuoi perfetto la prendi e la gestisci in un'altra maniera ora parlando col seno di poi ovvio l'abbiamo gestita male invece io credo che la juventus forse era scesa in campo troppo intenzionata di voler dimostrare quindi completamente squilibrata completamente anche irrispettosa di una fiorentina che ok non sta facendo un grande campionato ma è pur sempre una squadra di serie A con Ribery con Vlaovic un grande contropedista con una difesa comunque con Casares giocatore di esperienza Borca Valero Castroville che secondo me è un giocatore eccezionale io l'adoro Castroville e quindi una squadra ben messa in campo Milenkovic anche lui di esperienza Pezzella Igor cioè non è che stai giocando capito contro Pinco Pallino e Bingiboncio che ne so io allora sono giocatori forti sti qui e allora ecco che dopo tre minuti prendi il contropedio ed è lì che si inizia a capire che tu veramente in realtà stavi accusato mi viene in mente quando uno ad esempio dice tutto bene tutto bene sto bene sto bene sto bene sto bene ma sta bene perché vuoi convincere te stesso vuoi convincere me o stai veramente bene ecco una Juventus che scende in campo così forse voleva dimostrare di non aver subito il culpo ma l'aveva subito dopo tre minuti il contropedio che poi vabbè non è manco il primo contropedio che subiamo così quest'anno però vabbè lasciamo stare fatto sta che poi dopo 16 minuti ecco la prova del 9 del secondo grande colpevole di questa sera è quadrato ragazzi non puoi lasciare la squadra in 10 uomini dopo 16 minuti per un fallo in zona d'attacco andando in un intervento che nemmeno ma veramente roba nemmeno nei film più croenti di Van Damme si vedevano ste gambe spezzate in questa maniera ma che cazzo era quella roba lì ma poi rimbalzato sul polio ma tu non va neanche scivolato tu lì ti fermi e basta quindi lasciamo stare ma chi è che parla del capitolo mille ma te la prendi tanto col capitolo mille c'è gente che ho sto capitolo però non capisco sto astio rimane un grande traguardo certo sarebbe stato un grande traguardo qualora fosse stato gestito in una maniera decente è stato gestito una schifezza e quindi non mi piace parlarne nella community me lo leggo per i fatti miei il capitolo mille tutti quelli che mi chiedono do la stessa risposta lo odio appunto quindi va bene così poi per i fatti miei la telecamera spenta me lo vivo per i fatti miei il capitolo mille a voi non vi riguarda perché purtroppo andate a finire così sono rimasto delusissimo dalla community quindi è un'altra storia comunque torniamo alla partita tornando a noi poi che succede? che dopo la Juventus in realtà ha anche provato fino al secondo gol della Fiorentina di gestirla un po' abbiamo provato qualcosa abbiamo provato con... purtroppo è stato sacrificato Ramsey un buon Danilo, Danilo sempre nel secondo tempo è sceso in campo molto bene ci sono state alcuni tentativi di Ronaldo forse anche un po' sfortunati eccetera dopo, dopo, ok potrebbe subentrare quello che effettivamente stavolta non lo dico da Juventino io mi affido al commento di Bergomi e se uno come Bergomi come Beppe Bergomi si mette a fare il commento a favore della Juve allora vabbè ragazzi domani mattina che possa anche venire giù una nevicata di... vabbè che il 2020 fammi sta zitto però non si fa un asteroide però per dire Beppe Berg cioè il secondo giallo a Borcavalero diciamo così che ha rischiato ha rischiato talmente tanto che infatti Prandelli l'ha tolto a messo Pulgar poco dopo ha rischiato e un arbitro lì poteva tranquillamente dare il secondo giallo come era salutato a Pjanic a San Paolo vi ricordate quella partita? la Juve vinceva 1-0 a 10 uomini 11 contro 10 Pjanic ha morito subito puh secondo giallo come ha rischiato Arrabbiò all'Olimpico puh secondo giallo Arrabbiò immediatamente Juventus in 10 all'Olimpico Borcavalero ha rischiato c'era un contatto prima su Ronaldo diciamo che il contatto c'era anche lì i commentatori avevano detto il contatto c'è e poi clamoroso quello lì effettivamente Drakovski fa proprio una gaffa sfugge il padrone da mano Bernardeschi ci sta andando su e si allunga il gomito effettivamente lì veramente sembrava chiaramente fa un mio Dio il messaggio speriamo speriamo bene ah ok non devo correre all'ospedale a farmi il tampone meno male meno male una notizia buona questa sera ragazzi una notizia buona ok almeno questo domani vediamo di chiuderci sta giornata di scuola e iniziamo queste benedette feste che ne abbiamo tanto bisogno anche i giocatori della Ivo comunque vabbè ma parlare dell'arbitro è veramente grazie mille per i cuoricini ragazzi grazie ero anche molto teso stasera per questa cosa perché quando sei stato a contatto con uno che in questo momento sta andando a farsi un tampone non è proprio il massimo della cosa anche perché poi sai che casino che dopo di comunque buona notizia stasera mi sento già rindivido bene 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 comunque ripeto per il resto che voto vorremmo dare alla squadra ma del ICT una cosa positiva no ti prego no è incredibile come nel 2020 la parola positivo sta diventando una cosa negativa e negativo sta diventando una parola buona comunque tornando a noi ripeto basta che cazzo volete dire ci sarebbe semplicemente ad arrabbiarsi con questa Juve ma che cosa ti vuoi arrabbiare una squadra che ormai è stanca è stanca di tutto è stanca è stanca veramente del campionato la Juve mi sembra veramente una persona sapete quelle persone che quando tornano a casa odiano magari quella casa perché è un matrimonio infelice va tutto male e allora torna a casa e si vede proprio è l'atteggiamento che ha questa squadra che di astio quasi contro il campionato invece in Champions si respira un'area diversa ma il campionato veramente è una brutta una brutta roba si vede tanta non lo so si vede tanto tanto astio contro che inizia anche a farsi sentire quindi va beh vedremo vedremo l'anno prossimo se il 2021 porterà un'area nuova alla Juventus certamente chiudere l'anno così manco è bello però ci sta o comunque la prossima partita è sempre quest'anno magari si giocherà durante le non lo so c'è la pausa adesso chiedo vediamo in diretta campionato serie A prossima partita vediamo un po' qual è prossima giornata sarà 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 così informiamo tutti per chi non dovessero sapere vediamo un po' giornata 15 si giocherà domenica 3 gennaio domenica 3 gennaio si giocherà e non sono stati ancora decisi si 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 riparte il 3 bene allora questa è l'ultima partita dell'anno il 2020 possiamo dirlo è un anno de merda che finisce de merda anche calcisticamente parlando non c'è nessun problema e quindi andremo avanti ecco fatemi il layout dell'Udinese così grazie mille ragazzi e per il resto niente saranno felici stasera tutti quelli che odono la Juve ovviamente non avendo visto la partita diranno che Bergomi è uscito completamente pazzo quando arriva il nuovo gioco vabbè il nuovo gioco adesso vedremo di portarlo domani se riesco se ho le energie per sopravvivere domani altrimenti se ne parla dopo Natale tanto adesso iniziano le fere dai ragazzi dobbiamo recuperare ah vero si potrebbe anche recuperare Juve Napoli ma non credo non credo non lo so vedremo comunque nel caso io nel frattempo vi saluto tutti ragazzi buonanotte a tutti noi ci vediamo prossimamente mi raccomando fate i bravi e mi raccomando preparatevi per il capitolo millequattro iniziare il volume 100 di Wampi sarà un grande volume comunque ciao buonanotte buonanotte volevo dire buonanotte ragazzi ho detto ciao buonanotte non so cosa cazzo ho detto comunque buonanotte a tutti ragazzi ciao buonanotte buonanotte